Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale Gino Gamerino Signori eccoci qui di nuovo con Fallout 4 ragazzi Di nuovo in compagnia del nostro eroe Valterino Allora signori ho appena riavviato adesso la partita A parte che mi sono uscite fuori 64.000 missioni Ok Cioè allora richieste di soccorso volte Che questo e quel lato Qua ci sta un bordello da fare Allora vediamo un attimino qui se Stato special, talenti, no dati Allora quando è meglio Allora indaga l'officiale del mercante Vedete quanta roba, guardate quanta roba ci da fuori C'è impressionante Questo l'abbiamo fatto Allora cominciamo magari da qui Vise al negozio della Watts Electronics Ok Allora se io Ah ok Allora facciamo così Teniamoci spuntata questa Ok R mossa sulla mappa Ah mi da anche la mappa Noi dove stiamo però Ah ragazzi ma sta in culonia però Qualcosa più vicino Eh magari Non so Ah fighissimo Guardate che roba Eh Allora vediamo se c'è Allora questo vabbè E chi indaga l'ultima posizione Nota della carovana scomparsa Vediamo un po' di mostrare sulla mappa Questo sta ancora più lontano Ottimo Allora andiamo a vedere le altre mappe Il crogiolo Che roba è La ceria Ma forse Ma forse non è che quando i maiali voleranno Indaga l'officina del mercante Vediamo un po' questo sulla mappa Eh ma tutte lontane ragazzi A parte che ora dobbiamo Esplorare il quartiere Sì Allora eventualmente Quelle le vediamo dopo ragazzi Intanto bisogna esplorare il quartiere Con cross E due cazzo sta cross 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 Aspettate Andiamola circa un attimo Intanto andiamo a vedere Che c'è in giro ragazzi Non è che io Cioè posso entrare Nelle altre case Sì magari troviamo qualcosa di Uh Non è che troviamo anche i mostri Però qua raga Eh io non è cattiveria Ma vabbè Eh raga Non è che potremo guardare tutte le case Dobbiamo esplorare il quartiere Vediamo cosa c'è di buono in giro Ah lì c'è Tipo rifornimento Vedete dalla mappa Che io vado di qua Qui ho Dovrei avere sì Un obiettivo qui Quindi andiamo a vedere un attimino Qua che c'è Che mi dice che devo andare qua Ma dove sta Ah Ah eccolo lì Ah beh Eh segnato anche qui insomma Quindi lo vediamo bene Forse dovrei entrare qua dentro Cosa c'è qui No comunque Eccolo qua Che succede qua Eh Cosa Cosa mi devi raccontare tu La sua famiglia non è qui Sono Sono davvero spariti Quindi E quindi 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 Ah e adesso Sciaone là fuori Perde di tempo Va bene così E adesso E allora facciamo E adesso Forza Codsworth Mi serve il tuo aiuto Dove posso andare Dovrebbe recarsi in città Concorde non è lontana Ma la gente lì non è Educata come me C'è ancora qualcuno Concorde Di prendere il fronte interno Vabbè tu Proteggi Allora Quindi Mi dice di andare a sud Dopo la sezione Di rocket Allora Andiamo a rivedere un attimino La mappa C'è nel senso Eccola qui Ah ok Esplora con Area di servizio Red rocket Ok E questo è Sanctuari Viaggiare Ah ok Perché potrei viaggiare Anche No 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 Ah però Visto che Si vabbè Rimane qui sulla sinistra Eccolo lì Andiamolo a vedere un attimino Quel santuario Capiamo un attimino Se conviene Passare di qua Posso saltare Quest'accionate No No Quest'accionate Me fai passare Se posso Butta giù Non è che posso Aprire magari Eh eh Forse era Vabbè Eh vabbè Abbiamo aperto il cancello Dai dove sta il santuario Oh Sta di là Così Vediamo un po' Dovrebbe stare Oh Dov'è il santuario Scusate eh Sto cercando di capire Eh ci sono sopra Praticamente Eh dove sta Non lo vedo Forse è qua dentro Allora Ma però Mi pare che sta qua dentro Dice c'è il santuario Qui io non lo vedo Scusate eh Ma non sta ne manco dentro Perché poi me lo indica Proprio qua Beh Scusate eh L'avete visto pure voi No al santuario Io Volevo vedere Forse è questo Cosa qui Buttato giù Però non Un discorso che non mi fa fare nulla Vabbè E allora andiamo Allora a questo punto Io direi di dirigerci verso L'area di servizio Red Rocket Allora Ok Perché come missioni Eh Fuori dal tempo Esplora quartiere Si parlo Ok Esplora Concord Si devo esplorare Concord Ok E allora andiamo lì Praticamente Ritorniamo sulla mappa Teniamoci la mappa Red Rocket Esplora Concord Quindi devo passare comunque di qua E allora ragazzi Andiamo verso Quell'obiettivo Che muovo a capire dove cavolo sta Che non muovo da più qui Però dovrebbe essere di qua Non mi dà una ma Non posso Ah ecco Si direttamente Si si perfetto Do seguire la strada Andare sempre dritti Dai Quindi andiamo diretti di là Il microfono mi stava cadendo Ok Andiamo 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 Diretti di qua Vediamo strada facendo Cosa Troviamo Questa che roba Abbiamo un'intenzione Due forbici Si si Prendiamo le granate Le forbici per vendersi Dai prendiamole Vediamo anche quello che riusciamo A raccattare in giro Signori Perché insomma Potrebbe far comodo Qui bisogna stare attenti che caschiamo Ok Qui Oddio Questi che hanno fatto Ah Munizioni Prendiamolo Steampack Pistola artigianale Completo da reietto Beh io prenderei tutto Ah pure il completo da reietto Vabbè Questo Carne di carne Eh beh Questo si può prendere però la carne No Poi non so se ce la potremmo mangiare così o no Però Chi è quel mostro là Ah no Non era il tronco Sembrava un mostro Io vorrei anche vedere in giro Quello che c'è Signori Perché Magari cose che ci possono Le ruote Metti che chippiamo una macchina No eh Qui ce l'abbiamo di ruote però volendo Magari no Qui non c'è nulla Andiamo Andiamo Dai Vediamo di arrivare Qui che cosa è bello Fighissimo Questo Saluta il cane Ando sta il cane Ando sta Ah siamo in area di servizio Eccolo E dove cavolo stavi Ehi bello Ciao cucciolo Fuori tutto da solo Bello Ma che posso parlare pure con il cane Hai perso il tuo padrone Bello Ah Ci facciamo amico Il degadente Ok allora Vieni con me Eh dai Bello Vediamo il cagnolino Diamo gli ordini Eh che devo fare Ah Qui Ah lo faccio venire come cavolo in varia a me Grande Allora vieni qua Dai esploriamo Ah beh qui dovevamo trovare il cane Probabilmente Ciccio Vieni qui che mi ti dà una mano Ah Ancora Vieni qui Vieni qui State bano là eh Qui C'è nient'altro Ok Sì vabbè Io basta da ordine però Eh Vabbè Vediamo qui se c'è qualcosa Ci può essere utile Pacchetto di sigare Ma sì Fumamo Come prendilo Ah prende lui No Sei un grande Mi hai aperto tu la porta Ma sai Sei troppo forte Cagnolino Sembra che posso far più la roba a lui Cioè Grazie Cane Della Red Rock E tu se vediamo un attino So terminale che dice Vabbè Ah Inserimenti operativi Registri servizi Inserimenti operativi No Propeggiamento installato Restauro per rosa Deposito sicuro Vediamo È stata una dura lotta Con i responsabili Ma alla fine abbiamo contenuto Gli strumenti che ci servivano Per creare le nostre parti Non dovremo più pagare Per i ricambi ufficiali Corvega la prossima volta Che cambiano Vabbè Sì Insomma Niente di che Vabbè Ok Restauro per rosa Deposito sicuro Occupati di quei barili Gli ispettori arrivano domani Di prima mattina Per il momento Nascondili insieme agli altri Una soluzione la troveremo poi Ehi Se la natura ci ha regalato Una caverna Proprio sotto di noi Chi sono io per la mia Ah Quindi Teoricamente c'è una caverna C'è una caverna Caverna Ok Allora Sappiamo che c'è questa caverna Tabesci Ok Perfetto C'è una caverna Proprio sotto di noi Pestellificazione Sigarette Prendiamole Qui c'è Scato di Ancora Vabbè Nass americano militare Io prendo tutto ragazzi Pennello Quello che c'è Ma che ci frega Eh Qui c'è niente No Passo Pensavo di poter parlare Di qualcosa Prendiamo il tostapane Che non si sa mai C'è via fame No Ah Arcane Proprio me segue ovunque Sì Non è che ti buttaggio tutto Però Oh Questa chiave regolabile Va Prendiamola Oh Mi sa che qui sono Stecche Ah Stecche di sigla O io fumo Prendiamo il telefono Prendiamo il tappo Qui Che ci fanno Lo so L'acqua Chi è Ma chi è Madonna mia Chi è questo Chi so Cane Cane Vieni qua Ma il cane Madonna Ma chi so Questi Carne di ratto Talpa Vabbè Prendiamo Magari serve qualcosa Denti Grande amico mio Fortuna che c'eri tu Sennò non è un bello Che ammazzato Grande Grande C'è qualcun altro Facciamo attenzione Questo Vedi se aveva qualcosa Di interessante Vedi un po' Ciccio Tappo Che c'aveva Si Vabbè Carne ce ne abbiamo Per una settimana Almeno L'unica cosa Signori Io non mi ricordo A parte questo Aspettate Non mi ricordo Ah ok Così tolgo da lui Perfetto Non mi ricordo Le armi Signori Ah ok Allora 4 Ok Quindi 4 La pistola Però Ok No io vorrei Cambiare Nel senso Non mi ricordo Come si fa Mannaggia Aspettate Allora Dato Inventario Armi Artigianale No 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 Questo volevo Grazie a Prometazione Vabbè Spezia Relace Ordina Z Vediamo un po' Ah no Vabbè Tabella Talenti Non mi interessa Per ora Allora No ragazzi Non mi ricordo Per quanto riguarda Le armi Si Ah ok Il 3 E questo qui Il 2 Non è niente Lo steam pack Come facevo Usarlo No Non mi ricordo Come si faceva Usare lo steam pack Ragazzi Ok Ma sta camminando Solo Ma raga Con la X Mi è camminata Solo Vabbè Ah no Perché non mi cammino Più veloce Ok Adesso si Allora Si signori No Teniamoci questo Però Mi serve lo steam pack Ragazzi Ho bisogno Di usare lo steam pack Come si faceva Mannaggio Allora Inventario Inventario Vestiario Provviste Varie Materiali Modifiche Munizioni Munizioni Ce le abbiamo Vediamo un po' Ok Vestiario Anello Nuziale Vabbè Armi Bottiglia Granata Non è un'arma Però Mamma mia Vabbè Non mi interessa Carne Di cane Selvati Carne Nera Ok C'è la dolcezza Forcino Materiali Abbiamo questo qui Ne abbiamo pure parecchi Tra l'altro Vabbè Parecchia roba Modifiche Non mi interessa Munizioni Abbiamo queste E ok Però Gli steam pack Noi ce li dovremmo avere Qui non ci posso mettere niente Quello è il punto salute E questo è quello Sì Però Io non mi ricordo Signori Gli steam pack Come Allora Vediamo un attimino Quindi qui teoricamente Io ho visitato Cioè Pide questo Non credo che posso fare No Quindi secondo me Dovremo proseguire Allora Andiamo sulla mappa Un attimino Questa l'abbiamo visitata Dobbiamo riseguire la strada Per arrivare A Completato Sì Dobbiamo esplorare Concord Qui Proviamo ad andare un attimino Seguiamo la strada Tanto questa Espiamo di non trovare Animalacci Più piano Che Oddio quello Qui che ci sta C'è qualcosa Qua Nulla Oh Mamo queste Ci facciamo pensare A me No Non è che ci ammazzano No 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 Aspettate Facciamo qui No Non ha già sbagliato Si facciamo Qui Ok E accettiamo Mazzaro Ho preso in pieno Eh Eh però Aspettate Voglio vedere Aspetta un attino Che si ferma Ecco qui Ma abbiamo ammazzato No Sì Andiamo Allora Sì Allora Lo prendiamo Da qua Ovviamente Però Al momento in cui Si ferma un attimo Però Le di succhia sangue Apriamo ora Dove sta andando Se ne sta andando Questo stronzo Ma ci ha pensato Amico mio Ah Sì 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 Vieni qua Amico mio Vabbè Facciamolo fa Eh Dove è quello che Ha ammazzato Qui cosa ci abbiamo Pelle di bramino Prendiamola Quell'altro invece Madonna Ma ci sono un sacco Di animalacci Brutti proprio Eccolo qua Eccolo qua Vediamo un po' Che ci può dare Questo Se ci da qualcosa Probocci del succhia sangue Ma si Ficchiamolo Amico nostro Dove sta andando No Però lo voglio con me Questo Ma mi aiuta tanto Ed è andando Eccolo qua Ciccio Dove vai? Ehi C'è qualcun altro Vabbè Senti ragazzi Io vado Però mi serve il cane Ho bisogno del cane Ma viene qua con me Vabbè ragazzi Intanto andiamo noi Allora Questa dovrebbe essere La città Cassetta Non c'è nulla Allora Qui siamo A concord Ok Siamo arrivati A concord Quindi vediamo Un attimino Che c'è qui Il tuo cane In difficoltà Do sta Purello Eccolo Ecco Qui c'è un mostro Ma dove sta Cano Eh Come lo uso Stilbuck No Regà Mi è ammazzato Ma Non mi ricordo Come si usa Lo stilbuck Signori No Lo torna a vedere Per forza Vabbè Vediamo come si ricomincia Ah Vabbè Da qui Dai Ma il cane Ce l'abbiamo sempre Ce l'abbiamo Il cagnolino Ah Eccolo Eccolo Ehi Aspetta lì Forza Andiamo Segui Vabbè Dai Torniamo un attimino Lì Però bisogna stare attenti Dobbiamo stare un attimino Attenti Ma di qua si andava No Di qua torniamo indietro Vero Aspettate Mannaggia Mi dispiace Essere morto così Perché Ma Ho tutto quello Che avevo prima Sì Infatti La strada è quella Sì Andiamo di qua Amico mio Dai Cerchiamo di ammazzare subito Qui Così Perché mi hanno otto Come si usa lo stilbuck Ragazzi Non me lo ricordo Ecco Ecco Cotto Con nove Lack Era Facciamone un altro Con zero Perfetto Dai Con zero Si usa lo stilbuck Ottimo Almeno Ora siamo pieni Torniamo un attimino lì Dove sta amico mio Bravo Bravo Vieni con me Lì c'erano i mosticiattoli Ma adesso Noi li ammazzeremo insieme Allora Erano lì No Ho già Me l'ha tolti Praticamente Ah no no E' quella Ok Si vado meglio così Ragazzi Non è cattivo Qui non mi dà qualcosa Si Ehm Provo a uscire il succhio sangue Prendiamola Ok Torniamo lì Visto che insomma Ci eravamo arrivati Allora Qui bisogna stare attenti Perché ce n'è uno Da qualche parte Qui c'abbiamo l'amico Oh guardate lì C'è un UFO Allora qui Stai attenti che ce n'è uno Però andate a capire dove sta ora Io non so da dove è arrivato Però insomma Qualche parte è arrivato Andiamo un po' più Con velocità Quello E' un corvo Vabbè Corvo lasciamo perdere Oh Ma sbaglio Sentiamo sparare Signori Dov'è che Stanno sparando Di qua Ma lui è amico mio O no Si Oh Ah non sono amici nostri Si Eh Ma si Prendiamo tutti Ecco la Quella dell'altra Quindi dobbiamo ammazzare tutti Io questi Aspettate Vediamo un po' Cosa ce la facciamo No assolutamente Assolutamente no Andiamo Avviciniamoci Un attimino Però ciccio Tu devi venire qui con me Ecco le nalle Trova Vabbiamo ammazzare prima a questo Qua No ciccio Devi aspettare Dov'è? Ma dove va il mio Il cane mio fa come gli pare Cioè io capisco tutto Mi è stata una mano E sono contento Però Ok Dovevo entrare dentro qua Dai Ho capito Entriamo qua dentro Al museo della libertà Signori Dai vediamo un attino Che ci sta Sicuramente c'è da ammazzare Quelli da sopra Io pensavo Nemmeno di trovare Persona o quant'altro Invece No Altro che Altro che se non ci sono Però Sempre bello Qui Ok Ok Non mi devo nascondere un attimino Però Ok Eccola Dove stai Oh Ma quanti ce ne stanno Rega Senti C'ho ancora Le steam pack Sì Almeno uno Lo facciamo fuori ora Ma dove stai E' bloccata Porca la puttana Come salgo io qua Qui non c'è nient'altro E' ok Io te voglio bene Ma come entro là Dove sei Oh Caputana Te voglio far fuori pure a te Dove sei Oh Non la vedo Se me non voglio rimuere un'altra volta Sì però il discorso è uno Come entro io là Ora Certo No ho sbagliato Ho sbagliato Mi serve questo Una che ce l'ha Un po' di steam pack Il discorso è questo Allora Vediamo un po' Se dice qualcosa Mi può essere utile Sì vabbè Vabbè C'è un bird Non è che mi va di giocare Ragazza A me mi serve qualcosa Per entrare là Come entro io lì Andiamo un attino di qua Che ci sta Andiamo un attino di qua Vediamo una Ah qui Non posso Entrare No Allora 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 Questa Ah ma sono manichini Ah fucile a doppia Sì Torace da predone Cappuccio Salopette Prendiamo tutto Abbiamo spogliato Praticamente Però a sto punto Ragazzi Ma io ma Non è per niente Gli oggetti preferiti La scheda inventario Premendo Q Ah ok Lo prendiamo Un attimino Ah una prova forse da lì Ah inventario Ok Allora Vestiario Pratico da predone Allora Ah ok Completo da reglietto Mi dà qualcosa in più Maschera antigas Vabbè Salopette Mi dà solo uno Torace da predone Non sarebbe male Quindi lo andiamo ad aggiungere Ah Io ho messo Tre Il manganello Quattro La pistola Aggiungiamolo qui Poi Tutta da volte Quello che abbiamo Però scusate Ah Così lo indosso proprio Completo da reglietto Però almeno ci fa No Ah ok Ok Allora Questo mi dà Allora Io però Completo da reglietto No Mettiamoci questo Allora No E potrei mettere Questo qui Un annunziale che ci fa Valore Ok Questo non ci dà quasi nulla Il cappuccio Vabbè Quindi Teoricamente Io col 7 Dovrei indossare Quello Vediamo un po' Amico ho capito Vediamo un attimo Allora Così sono Ok Se io faccio 7 Ma che è sta roba Regà No 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 Preferisco come era prima Oh Eh no È completo da reglietto Secondo me Eccolo me Ah perché ho indossato solo la salopet Ah completo da reglietto Lo metto Ok Io invece la salopet qua No 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 Completo da reglietto Assolutamente Allora E questo lo mettiamo No ho sbagliato E questo lo voglio mettere Eh ma Ne manco Vabbè Mettiamolo lì dai Anche se insomma Eh Preferisco tenermelo insomma com'è Però vabbè Allora Quindi andiamo avanti ragazzuoli Vediamo se c'è qualcosa Esatto da prendere Qua Ma questi sono finti Sì Tutta roba finta Munizioni ce ne abbiamo No Certo Gli steam pack Ne abbiamo Pochini Però Qua non Mi pare che Non c'è nulla Qua Qua ragazzi Sarebbe da giocarci Tipo Un'ora al giorno Però Ragazzi Ricordate ragazzi Ah ok Siamo sbucati fuori di qua Questa la posso via Ah no Tanto anche che ci devo fare Vedete ci ci vedo Quindi insomma No Qui c'è qualcuno Ah però siamo arrivati qua Qui ho paura Di andare su questa pozzanghera Ah non è una pozzanghera Affanculo Cascato tutto qua Vediamo se c'è qualcosa In queste stanze Ma mi sembra poco di no Qui Andiamo piano Qui è dove non riuscivo ad aprire Ma ci siamo arrivati Qui Qui sono i steam pack Cartuccia Munizioni La revolver artigianale Perfetto Ah a proposito A proposito Di revolver Cavoli Armi Inventario Armi Allora questa Io ho la pistola Ok questa fa più danno Cadenza di fuoco 55 25 29 Quindi fa un po' meno danno Portato 83 Precisione 60 Questa meno precisa Vabbè Allora Revolver artigianale Proffa Cadenza di fuoco 6 Tirapugni Manganello E invece Il fucile Cartuccia 3 Danni 45 45 Eh però la mia pistola Fa molto meno danni Questo Revolver Fa 24 Di danni Il revolver 24 Però Questo qui Oh 24 10 mm Allora Facciamo così Allora Il fucile Che mi fa un sacco Di danno Lo mettiamo Quindi 4 5 Ok Ok e la revolver La mettiamo Nel 6 Così Almeno ce le mettiamo Tutte La bottiglia Molotov Pure Lo mettiamo Questo che cosa è Il manganello Si Allora facciamo Anche se io Ve lo fare Facciamo così No Mi sto sistemando Tantino le armi Signori Perché Ho bisogno Sistemarle La pistola La teniamo Come 1 Quindi qui ci mettiamo La cosa La pistola Questa La mettiamo Nel primo Ok Il fucile Questo qui Che fa un sacco Di danno Lo met No vabbè Voglio la pistola Questo lo mettiamo Qui Il manganello Insomma Non lo mettiamo Là Il revolver Vabbè Poi dopo Non ci andiamo A togliere Lo mettiamo Come 3 Ok Granata Il manganello Lo mettiamo Come ultimo Che è proprio Una cosa No Quindi abbiamo messo Questa qui Che è la mia Questa fa meno danno Ragazzi Quell'artigianale La lasciamo lì Questo e questo Bottiglia Molotov L'abbiamo messa La granata La mettiamo Come 5 E per ora basta Se che bigliardo Non credo Che dobbiamo Non giocare Però Ma se a 16 fa Fa più del manganello La secca di bigliardo E danni Ok Quindi Lasciamo così In modo che io Mi ritrovo qua 1 2 Questo pure Questo invece È il revolver Ok Queste Non le lascio Alte Per lanciare le granate Non voglio Rilasciare nulla Ok Andiamo Proviamo ad andare un attimino Così Dobbiamo salire là sopra Ovviamente Ma scusate Io perché cammino così In maniera Troppo stealth Andiamo su Ciccio Vieni Vieni Andiamo da una parte O dall'altra Non lo so Sto andando di qua Con la speranza Che sia la parte giusta Però qua Perlomeno vedo Delle cose Se c'è qualcosa Da poter prendere Munizioni Ah Eccola Ride Radaway Ah Prendiamoci anche Radaway Che ci frega Vieni amico Questo è il ventilatore Prendiamolo Ok E di là però Che c'è qualcosa Altro Andiamo a vedere Un attimino Signori Qui Che ci sta Nulla 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 E qui ragazzi C'è da Visita tutta Il dentifricio Ma si Prendiamolo Se ci dobbiamo lavare i denti Che fa Non se li lavamo Eh E damo Allora vediamo qui Denaro prebellico Si prendiamolo Qui non c'è nulla Qui non c'è nulla E qui Fantastic Fantasticolla Coltello di plastica Vabbè Se dobbiamo mangiare Un coltellino ci serve No Eh Che famolo Mangiamo noi Allora Bottiglia di birra Ma si Prendila Questa non si può più No Schiaviamo Non c'è nulla Qua non c'è nulla Vediamo qui Non c'è arrivato prima Sì Infatti qua stavamo prima Ok Ok Sì insomma dai Siamo arrivati fino a qua Ragazzi Allora signori Io direi però Visto che qua il video è andato parecchio lungo Io direi di fermarci qui Ok Siamo arrivati qui In questa città Qui con il nostro amico Fidato Eh Ok E Direi ragazzi A questo punto Di Fermarci qui Ok Io mi raccomando Come sempre Vi invito Ad iscrivervi al canale Attivare la campanella Un bel like Ragazzi Mi raccomando E un bel commentino Insomma Fatemi sapere anche la vostra Ok E ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzuoli Ciao ragazzi